Allora, eccoci, siamo online, ben trovati a tutti, siamo alla nostra ennesima chiacchierata, conversazione con i protagonisti e le vittime degli errori giudiziari. Se volessimo riassumere in una frase la vicenda di cui parleremo questa sera, o questo pomeriggio, potrebbe essere questa, come passare da un onesto, normalissimo direttore di filiale di una banca di provincia, della Cassa di Risparmio di Livorno, a mente finanziaria della mafia in Toscana, senza sapere come si è accaduto e perché questa cosa si è accaduta. Sembra incredibile, invece, è qualcosa che è successo davvero a Roberto Giannoni, a cui diamo il nostro benvenuto oggi. Benvenuto Roberto. Grazie, benvenuto Roberto. Grazie, benvenuto a voi. Un abbraccio Valentino, un abbraccio Benedetto. Ciao Roberto. Un abbraccio alla vostra grande famiglia che avete messo su, eh? Avete un cuore grande. Grazie, grazie. La famiglia è grandissima. Alla cosa che mi dispiace è che si allarga continuamente. Vai Belletto, tutto tuo. Senti, senti Roberto, in cui cominciò tutto, alle quattro e un quarto, tuo padre ti viene a svegliare e c'è un problema. Sento, scusa, sento un ritorno fortissimo. Per caso, Roberto, hai il telefonino, la chiamata telefonica accesa? Il telefono acceso, no? No, no. C'è il telefono, tu Benedetto, c'è il telefono. Sento una eco fortissima. No, forse in genere il telefono che rientra. Vabbè, speriamo che sentano bene che ci segue. Vai, vai, vai. Ecco, adesso vai. Così va bene. Mi sentite bene? Sì, adesso sì. Ok, perfetto. Torniamo a quella mattina alle quattro e un quindici, quando tuo padre ti viene a svegliare, perché tu pensi ci sia un problema nel condominio, dove abitavate. E invece? Invece? Invece la sorpresa è stata amara, perché io ero ritornato da poco i casconi miei, avevo finito la convivenza da pochi mesi, quindi non c'è stato tempo per piangere su questa fine della convivenza. Quella mattina io stavo dormendo, perché alle otto potevo essere in banca Piombino, e quindi quando mi ha svegliato sentivo un gran trambusto e per me era un problema di condominio. Non c'erano altre soluzioni. Solo che lui mi dice, Roberto, vieni in casa, ci sono dei poliziotti che devono parlarti. La sorpresa è stata scioccante. Tra l'altro, loro sono entrati subito in casa, hanno detto di chiamare un avvocato. Il mio babbo ha fatto il numero, no, il numero lo hanno fatto loro, ma l'avvocato poi ci ha parlato il mio babbo. E quindi dopo poco era lì, e a quel punto ci hanno parlato in segreto pochi secondi, e noi e il Roberto devono perquisire la casa. Ha preso possesso della casa, sono entrati a storia, non venivano mai, hanno aperto finestre, ognuno per ogni poliziotto per ogni stanza, sul terrazzo, tutti armati, c'erano dei poliziotti in borghese, ma sicuramente erano armati anche loro, e l'avvocato gli cedeva il prequisito da casa. Perquisizione lunga, un pochino scioccante, perché vedevi tutte le cose della mia stanza, hanno chiesto qual era la mia stanza, la mia camera, e ha buttato tutti gli oggetti in mezzo alla stanza, e poi altro colloquio con l'avvocato, l'avvocato dice, mette in una valigia delle mutande, una tuta ginnastica, un paio di scarpe, andiamo a Solleciano, ti arrestano. Io alla parola arresto ancora, non me ne rendevo conto sinceramente, non sono sincero, è una parola per me sconosciuta, ecco. E poi, quando ero pronto, mi ero vestito, la valigetta in mano, in mezzo al corritoio, mi sono scattate le manette, io mi sono girato verso i miei genitori, che spalla a spalla si leggevano, ma quello sguardo non si cancellerà mai, quello sguardo è in eterno nei miei occhi. Niente, è cominciato il viaggio, siamo scesi, ma purtroppo ero così scioccato che non riuscivo a rendermi conto se vi erano delle persone a guardare, perché in fondo alle scale c'erano diverse macchine di loro, macchine vorghese, macchine, diciamo, della Polizia di Stato. Roberto, scusa, Roberto, scusa, hai detto delle manette, che sensazione si ha con le manette ai polsi? Cosa si prova? Vogliamo spiegare, non solo psicologicamente, anche fisicamente, che senso di costrizione? Allora, io fisicamente, fisicamente, uno diventa, come si dice, un automa, mette le mani lì e si vede chiudere. Ma lo sapete qual è stato sarò ridicolo, eh? La prima cosa che mi è balenata nella mente. Dico, e se perdono le chiavi? Cioè, è balenato nella mente la cosa più assurda, no? E quindi siamo scesi, siamo saliti su una macchina vorghese, due, ero, era una, una tipo, ed eravamo, io ero nel mezzo dietro, due poliziotti alati, uno davanti, l'autista, siamo andati giù a Piombino, a Piombino mi hanno notificato del mandato di arresto e quindi da lì hanno aspettato un po', perché diciamo che quella era una rettata vera e propria, stavano aspettando che tutti gli arresti fossero conclusi e siamo partiti alla volta di Firenze. Allora, guarda, mi sono scritto questo elenco perché a memoria non me lo sarei ricordato. Associazione per delinquere di stampo mafioso, concorso in usura, estorsione, riciclaggio, traffico di stupefacenti, traffico di armi, è un elenco degno di un criminale matricolato, no? Cioè, tu in realtà eri perfettamente inconstratato. C'è l'ho qui, Faccio vedere, faccio vedere, l'ordinanza di custodia cautelare, vai, vai. Eccola qua, eh? Tutto quello scritto sono articoli, eh? Eh. Ora, questa scritta qui sono tutti gli articoli. Faccio capire, chi è che ti accusava? C'erano due persone che ti accusavano. No, non lo sapevamo. Ancora in quel momento non lo sapevi, eh? No, l'abbiamo saputo pochi giorni, un mese prima dell'inizio del processo. Eh, il primo articolo è il 416 bis del codice penale, eh? Quello è il capostipide di tutti gli altri articoli. Eh, si vede benissimo che la scritta è tanta, eh? Ma l'altra cosa di curiosa di questo mandato d'arresto dice, dice questo, mandato di arresto, che il GIP ordina agli ufficiali di agenti di polizia giudiziaria di procedere alla cattura di detto imputato e di associarlo immediatamente, anche con mezzo straordinario, presso la casa circondariale di Sollicciano, a disposizione della scritta autorità giudiziaria. quindi io in tutte le maniere dovevo essere portato a Sollicciano. D'altra parte ero io la mente finanziaria. E poi è successo anche questo, che tutti gli altri imputati, perché eravamo 45, sono stati disseminati nelle varie carceri della Toscana solo io a Firenze sotto il regno di Pierluigi Pigna. Beh, perché eri la mente finanziaria della mafia in Toscana, no? Però siamo andati prima in procura, siamo andati prima in procura a Firenze e io, diciamo, ingenuamente avevo chiesto a questi poliziotti ma siete stati zitti, non l'avete comunicato a nessuno, nessuno, no, per carità, niente. Poi, strada facetto, mi hanno cominciato a fare delle domande, scrivevano, tipo delle spontanee dichiarazioni e quando siamo arrivati diciamo all'interno della procura non vi dico ma prima di le manette strada facendo me le hanno tolte però suonavano le sirene perché abbiamo fatto la strada normale quei giorni la super strada tra l'altro non era ancora finita. Senti, senti Roberto, senti Roberto, scusa, hai parlato prima appunto del 41 bis reato. Sì, no, il reato è l'articolo del reato l'associazione mafiosa è 416 bis Ma hai fatto il carcere puro, no? Sì, sì, ho fatto tutto il percorso e sono preso la patente perché ho fatto due mesi di alta sorveglianza oppure allora chiamano alta sicurezza è la stessa e poi dopo una volta che avevo come si dice metabolizzato l'alta sorveglianza al 41 bis quindi 10 mesi al 41 bis appunto se ne parla tanto se ne sente parlare sui giornali ma ci spieghi che cosa comporta nella pratica ci fai un esempio per rendermene conto vi faccio un esempio pratico è una parentesi poi si chiude allora io mi sono fatto il lockdown qui a casa e con la patente che avevo preso a Solicciano l'ho superato a mani basse però io aggiungo questa cosa per rendermi conto che se io fossi stato sotto il regime del 41 bis quando ci sono stato io mi sarei più sentito riparato dai contagi che non a casa poi ho fatto l'alta sorveglianza l'alta sicurezza l'alta sorveglianza vi dico che sotto quella sorveglianza l'ho fatta io e qui non mi smentisce nessuno vi dico che sarei stato più sicuro a ripare dai contagi sotto l'alta sorveglianza che andare a fare la spesa sul mercato ho reso l'idea si ma nel dettaglio raccontaci qualche particolare che spesso sai le persone non si possono rendere conto di che si sente dire il caccio è duro ma in cui consiste allora il 41 bis è questo allora limitazione dell'abbigliamento solamente un paio di mutande un accappatore senza stringhe scarpe senza stringhe e pantaloni senza cintura visita dei genitori due ore al mese nessun accesso alle premiali nel senso che non potevamo mai avere un premio per telefonare a casa poi la cella a 12 metri quadrati da condividere con un'altra persona c'è il cancello però c'è il famoso portellone il blindato chiuso quindi io guardavo il corridoio da quello spioncino 20 20 per 15 25 per 15 dove ci passavano il mangiare non potevamo cucinare non potevamo contenere oggetti di ferro quando il menù prevedeva il tonno con la scatoletta davanti alla guardia lo votavamo e rendevamo la scatoletta non potevamo tenere il vino in cella lo tenevano loro e quando avevamo bisogno l'ora del pranzo del vino era un quartino di tavernello non lo ricordo tutta la vita questo qui poi andavamo all'aria a turni affernati con il turnove mai gli stessi e l'aria era due ore al giorno una volta una volta la mattina una volta il pomeriggio facevamo la doccia quando ci toccava perché la mattina passava la guardia doccia la facevamo con la porta della doccia aperta con la guardia che aspettava fuori quando andavamo all'aria la guardia perquisiva quando si usciva di cella perquisiva la guardia quando arrivavamo arrivavamo nel diciamo nel recinto perché era un recinto proprio dell'area di passeggio rivenivamo perquisiti alla risalita sia all'uscita dall'area di parcheggio e sia quando arrivavamo in cella la notte a campione ogni tanto facevano delle perquisizioni alle due di notte ti buttavano all'aria la cella e quando te rientravi ti mettevi lì perché alle due di notte a rifare la cella era un dramma e poi avevamo diciamo lo spioncino del bagno che dava sul corridoio quindi quando arrivavamo al bagno eravamo controllati con quante persone eri in cella con quante persone eravamo eravamo in due dodici metri quadrati vi faccio un'altra battuta la gente al mare ora c'è dieci metri quadrati sotto l'ombrellone in cella le avevamo dodici c'era la possibilità della separazione sociale consentite ma la mia è una battuta sono così io e quindi la posta era sotto controllo quando scrivevamo veniva vista prima dal magistrato e quando la ricevamo il magistrato l'aveva già letta quindi non c'era non c'era privacy non c'era niente eravamo proprio isolati dal box Roberto dopo un'esperienza del genere anzi durante al di là dell'anno di carcere durante la tua vicenda giudiziaria tu sei stato colpito anche da una serie di altre tragedie vere e proprie che hanno inciso profondamente e hanno aggravato ancora di più questa vicenda che stavi vivendo hai perso il lavoro sei stato costretto a vendere la casa per pagare gli avvocati il tuo papà è morto di crepacuore proprio poco prima che si cominciasse il processo beh se è preciso ha perso la mamma pochissimo dopo la tua assoluzione insomma come si fa a resistere ad affrontare una vicenda di questo tipo e arrestare ancora quello che sei oggi cioè una persona che sprizza energia da tutti i pori e ancora affronta la vita con questo disincanto e questa simpatia che tutti potranno notare ma io dico questo che la mia vita è cambiata la mia vita è cambiata totalmente perché io sul calendario oggi non segno più le ricorrenze i compleanni io oggi sul calendario scrivo l'arresto scrivo la carcerazione scrivo l'utti e questa è una cosa che mi fa tutte le volte mi fa mi fa tanto dispiacere ma è purtroppo non ci si può affermare la vita la vita ti spinge sei come spinto ad affrontare e io tra l'altro quando ho iniziato il processo ancora non ero stato assunto ero ancora disoccupato quindi c'era il problema della mia mamma che con la reversibilità dovevamo campare tutti e due mia mamma è morta 25 febbraio il processo è cominciato 25 marzo ma ci sono delle analogie nelle date che mi lasciano cercato quindi 16 diciamo dicembre la soluzione 16 febbraio è morta la mia mamma capito quindi sono stato arrestato di mercoledì mattina alle 4 la sentenza è stata letta di mercoledì mattina alle 4 il 10 giugno di quest'anno Roberto ma chi è che ti accusava parliamo di questi due pentiti perché lì la chiave è tutta lì noi siamo andati avanti senza perché gli atti processuali non ce li facevano vedere magistrati noi siamo andati avanti senza sapere mai su cosa si leggeva le accuse e da meritarvi tutti questi articoli non si riusciva un mese un mese prima del processo siamo andati addirittura all'udienza preliminare davanti al GUP senza sapere niente un mese prima dell'inizio processuale ci sono stati consegnati gli atti e noi avevamo 27 giorni di tempo per presentare il defensionale quindi è stata tutta una corsa al momento che abbiamo letto questi atti abbiamo capito che due collaboratori di giustizia due clienti della mia filiale avevano riversato su di me tutto il fango possibile ed è stato lì che mio babbo ha avuto l'ultimo infarto era già il quarto e se n'è andato chi erano questi due collaboratori allora questi due collaboratori uno era un collega della banca toscana che si era impelagato con dei grossi guai ed era cliente mio perché succede che si fanno i prestiti a colleghi quindi lui era venuto da me dicendomi che aveva bisogno di un prestito in quanto da Luca si stava trasferendo a Piombino perché in quel periodo era temporaneo lì a Piombino e poi lui che cosa aveva fatto nella sua vita aveva organizzato delle rapine nelle filiali dove aveva lavorato e questo è successo che una volta che con le intercettazioni sono riusciti a incastrarlo l'hanno arrestato e lui quando le hanno detto di raccontare la sua vita lui ha raccontato che era cliente mio della filiale e hanno detto cosa era che lo legava a me e lui ha detto bene perché Roberto faceva parte di questa organizzazione che lui con altri era riuscito a mettere su tra l'altro poi abbiamo scoperto che questo prestito che sta bene non era per mettere la casa ma era per fare operare un transessuale del quale si era invaguito lui era moglie di un'avvocata la sua moglie era avvocato il suo babbo era generale dell'esercito lui per far fare le rapine l'abbiamo scoperto tutto il processo perché il processo 144 udien 12 videoconferenze a Firenze per ascoltarli lui prendeva dall'armadetto la pistola del babbo la dava a questi che andavano a fare le rapine e poi la rimetteva al suo posto poi è tenuto il babbo vabbè prestito si è sbagliato una famiglia di rispetto e lui poi alla fine di tutto se l'è cavata quest'anno che ha fatto e basta lui non è che è stato assolto è stato condannato ma la diciamo che la cauzione l'aveva già pagata quindi è tornata ad essere un uomo libero in questa cosa qui e l'altra invece era una cliente mia filiale aveva fatto un prestito e lei era tra l'altro sempre scoperto dopo era solita chiedere prestiti a tutte le finanziarie del mondo aveva chiesto per questo prestito per acquistare del mobilio prestiti fatti diciamo con i crismi bancari ecco altrimenti poi non mi avrebbe assolto con i crismi bancari e lei quando ha visto tutta questa cosa per salvarsi a tutti i debiti si è presentata spontaneamente al commissariato e ha detto io conosco tutto di questo direttore e ha sputato fuoco e ha detto che io gli avevo preso una tangente che lei quando veniva in banca ma come si fa a credere lei diceva che veniva in banca settimanalmente a pagare questo prestito ma tutto il mondo sa che prestiti non si pagano tutte le settimane e gli ha creduto e lì che cosa hanno fatto gli hanno bloccato tutti i debiti da tutte le parti e l'hanno messa lei sotto regime di protezione ora non so il tempo è passato ma a tempi del processo che è durato è durato quasi 4 anni è stata fatta l'interrogatorio in videoconferenza perché lei aveva paura che qualcuno di questi arrestati perché fra questi 45 non erano tutti angeli eh andiamoci senti Roberto Roberto poi quando sei tornato in libertà tu hai scelto di dedicarti al volontariato nelle carceri vuoi spiegare come è nata questa decisione e cosa consiste in concreto allora una volta che sono uscito una volta che è finita questa mia vicenda io mi sono ricordato di chi mi aveva aiutato durante la mia carcerazione tra l'altro io presto questo mio volontariato presso la San Vincenzo De Paoli colgo l'occasione perché in questo momento ci sta guardando il presidente nazionale della San Vincenzo De Paoli lo saluto ciao Antonio anche noi ci sta guardando con affetto certo naturalmente e ci sta guardando anche Claudio Messina che ora lui è membro del consiglio nazionale ed è responsabile per le carceri della San Vincenzo De Paoli è con lui che io vado a fare volontariato quindi ho deciso ciao Claudio e quindi ho deciso di di dedicarmi di dedicare qualche ora il mio tempo libero di cogliere fratelli carcerati perché chi mi ha aiutato là dentro mi ha aiutato il detenuto che mi ha accolto per primo che ha capito la sofferenza di me che sta aventandoci mi ha aiutato il cappellano con le sue visite e mi ha aiutato la fede perché là dentro nella solitudine di quel 41 bis diciamo che la fede mi ha dato la forza io sentivo la voce sentivo la voce di Dio mi sembrava di sentirla quasi quando ero su quel panchetto e quindi ho deciso di dedicare qualche ora il mio tempo libero perché so quanto è importante aiutare una persona che si trova per le situazioni tra l'altro ci ha dato l'articolo 78 un articolo impegnativo perché dobbiamo confrontarci dopo gli incontri con il direttore del carcere magistrati di sorveglianza diciamo il comandante delle guardie e io diciamo che lo faccio volentieri mi piace aiutare anche perché capisco che per il detenuto la via del perdono è l'unica strada percorribile per poi inserirsi nella vita faccio anche un altro volontariato faccio anche un altro volontariato io tutti gli anni da 12 anni le ultime settimane di scuola le ultime 3-4 settimane incontro gli studenti del liceo di terza quarta e quinta da 12 anni prima a Follonica adesso a Piombino parlando loro di fede di giustizia e di perdono e adesso stanno siamo un po' in difficoltà perché la scuola ha questi problemi ma di sera quando ho invitato la professoressa a guardarci stavo pensando di come fare per videoconferenza anche con gli studenti restiamo su questo tema Roberto la tua vicenda ti ha segnato per sempre naturalmente in negativo ti ha cambiato la vita ma c'è un incontro in particolare che ti ha cambiato la vita in maniera altrettanto potente ma in positivo e c'è un riferimento noi perché lo sappiamo già su quella tua maglietta che indossi oggi faccela vedere un po' più da vicino chi è quel signore chi sono quei due signori perché si vede male allora due signori è l'abbraccio che io ho avuto con il Papa perché nel 2016 era il giubileo del volontariato delle misericordie e quindi erano state invitate tutte le associazioni con il professor Vincenzo De Paoli e diciamo che il servizio del Vaticano aveva chiesto a tutta l'associazione di presentare una testimonianza di volontariato la San Vincenzo mi ha chiesto se ero disposto a raccontarle la mia testimonianza e io tra l'altro in quei giorni avevo le stampelle perché ero orientato dal cammino di Santiago di Compostela e vabbè ho accettato e hanno scelto praticamente solo 5 testimonianze fra queste 5 c'era la mia dovevamo abbiamo fatto le prove il venerdì e il sabato mattina dovevamo raccontare queste testimonianze prima dell'arrivo del Pontefice la mattina quando mi sono presentato per ritirare il passo mi hanno detto guardi Giannore che lei stamani parlerà davanti al Papa e ci sarà l'abbraccio con il Papa e lì l'emozione è stata tantissima e mi ha spiegato poi ho incontrato in attesa del Papa ho incontrato con il signor Fisichella e mi ha detto guardi Giannore che ieri il Papa ha voluto vedere le testimonianze e ha detto non le potete fare tutte quando non ci sono due le voglio ascoltare in particolare io ed ha scelto la mia e quella perché il giorno dopo si beatificava madre di Calcutta e quella di una suora e quindi mi sono trovato a parlare davanti al Papa raccontare la testimonianza e dal protocollo io quando avevo finito dovevo recarmi davanti alla fortuna del Papa e ci sarebbe stato l'abbraccio però quando ho finito quando mi sono girato Papa Francesco era già dietro di me aveva gli occhi lucidi ve lo dico e c'è stato questo abbraccio che ti ha detto cosa ti ha detto che cosa mi ha detto il Papa non me lo ricordo perché piangevo mi ricordo che la parola bravo me la ricordo mi ricordo cosa gli ho detto io ci avevo pensato tutta la mattina io ho detto semplicemente Santo Padre penso tanto che i miei genitori da lassù ci stiano guardando e lì c'è stato il secondo abbraccio è un'emozione che mi ha ripagato di tutte le sofferenze credetemi allora aspetta io ti chiedo nel frattempo scusa Benedetto qua c'è una raffica di persone che vanno salutati Giuseppe Triumbari l'amica Lia Manna Anna Manna Diego Livieri assiduissimo è il nostro più affezionato Liberato Di Gregorio Fabio Maio Laura Batelli Anna Maimone Raffaella Giancastro Lorena Nicolini è pienissimo c'è Antonio Lattanzi il nostro amico che ti fa anche una domanda volante ma le metteremo tutte in coda dopo l'avvocato Riccardo Radi Masina Crugliano scusate insomma è pieno grazie a tutti per essere qui andiamo avanti non voglio togliere spazio a Roberto vai Benedetto gli stai facendo l'altra domanda volevo dire che Lorena Nicolini vuole dire che sta leggendo il tuo libro nelle scuole in traste eh questa è una bella soddisfazione questa mi riempie tanto il mio cuore veramente infatti veramente questa è una cosa che mi fa tanto senti Roberto tra l'altro nel mio libro non c'è una pagina di rancore io non ho mai avuto rancore remori remori contro nessuno io dico sempre che se un giorno incontrassi questi magistrati loro dovrebbero chiedere scusa ai miei genitori dire una preghiera a loro a me non mi devono nulla mi hai mi hai anticipato la domanda Roberto perché era proprio questo che ti volevo dire se qualcuno ti aveva chiesto scusa eh sei magistrati o anche i pentiti stessi che ti hanno trascinato in questa brutta vicenda no io non ho mai non ho mai incontrato nessuno e nemmeno i pentiti io posso solo raccontare due o tre cose all'accesso tramite l'avvocato mi ha chiamato il presidente del tribunale e mi voleva salutare dicendomi se avevo capito l'importanza della mia soluzione in quanto aveva dato addirittura condanne di tre mesi quindi la soluzione era importantissima e poi ho avuto diciamo fortuna di incontrare un altro magistrato che è il magistrato che è Caselli l'ho incontrato durante una conferenza qui a Venturina e quando tutti facevano domande sulla giustizia sul codice penale su questo io ho preso la parola dicendo dottor Caselli io gli racconto una storia e ho raccontato la mia vicenda e gli ho detto appunto che lo Stato non si era interessato di me nessuno aveva pensato alla mia salute nessuno aveva pensato di chiedere scusa e lui come da uomo di Stato mi dice guardi sono un uomo di Stato battiamoci il cinto e sono io che le chiedo scusa per lo Stato quindi anche questa è stata diciamo una bella una bella soddisfazione mi sento ripagato a volte con queste piccole cose anche grandi cose ma senti Roberto lo sai che la PM che ti accusò ha fatto carriera? si si aveva già cominciato prima della fine del processo era già stata spostata al CSM prima che finisse il processo adesso è il presidente della corte d'appello di Firenze ma io non ho non ho rancori non ho non ho remore ognuno deve fare la sua vita si deve sentire in pari con la sua coscienza penso che la notte poi qualcuno pensa a quello che fa anche se non lo danno a capire anche se non si saprà mai comunque sono contento così ragazzi sono contento di voi aspetta aspetta noi non c'entriamo qui sei tu il protagonista sei tu no nello spazio che mi date quando ci incontriamo cinsura cinsura basta fatti dire quest'altra cosa aspetta tu ci hai raccontato un aspetto bellissimo della tua vicenda così amara ed è legato a una poesia tu ci hai fatto leggere una poesia che hai scritto di notte mentre eri ancora forse i primi giorni o le prime settimane in cella colpevole di essere ma tu ce l'hai ce l'hai lì ce la puoi leggere perché ci piacerebbe che ce la leggessi noi vorremmo concludere con questa poesia però ci devi raccontare che l'hai fatta ci devi dire quando l'hai letta ai magistrati qual è stata la loro reazione raccontaci come è andata prima di leggere questo è il mio vangelo quando vado a incontrare i ragazzi come vedete questo è il mio vangelo tutti i capitoli l'altro mio vangelo non si vede bene Hotel Solliciano è il libro scritto da Roberto Hotel Solliciano è l'altro mio vangelo la persona che è il cappellano del carcere Don Cuba e io sono legato tantissimo a Don Cuba sono andato a trovare tre mesi prima che morisse lo andavo a trovare tutte le estate lui aveva un campeggio aiutava le persone sono andato su tre mesi prima che morisse lui era colpito da un tumore sentiva solamente dall'orecchio destro quindi io andavo e abbiamo parlato dei ragazzi della nonna sezione abbiamo ricordato tutti quei tempi è stata una cosa che mi ha fatto piacere la poesia io dopo tre tribunali della libertà eccoli qua ve li faccio vedere senza le carte senza le carte senza le carte 18 giugno primo tribunale 18 giugno respinto secondo tribunale 3 di luglio respinto terzo tribunale terzo tribunale 16 novembre respinto e ora siamo perduti 25 maggio 93 è respinto poi fortunatamente il 10 maggio quando il PM aveva chiesto altri 12 mesi di carcerazione con il GIP ha ritenuto che le indagini fossero a un certo punto e mi ha scarcerato però per altri due anni mi è rimasto in vincolo due volte la settimana ad andare la poesia eccola eccola qua l'ho scritta contaci come è nata come è nata è nata questo non sapevo non sapevo cosa più dire ai magistrati perché oltre agli avvocati e i magistrati che mi interrogavano dovevo io fare una spontanea dichiarazione non sapevo più cosa dirgli perché in quattro incontri avevo esaurito tutte le mie le mie cose che dovevo dire e allora mi venne in mente di scrivere una poesia e la notte l'ho scritta l'ho scritta due notti prima addirittura e poi me la sono letta riletta l'ho addirittura l'ho corretta l'ho aggiustata per non renderla poi troppo cattiva e quella mattina disse tra l'altro era presente tra i magistrati qui c'ho i nomi e rappresenta anche la 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 l'interroPartizia Cassano sorpresi un'altra anche gli avvocati perché non lo sapevano disse signore io quello che vi dovevo dire ho detto sempre tutte le volte adesso vi dico questa poesia colpevole di essere innocente disegnato come un mare ma dipinto con i colori della montagna tenuto prigioniero con un miraggio hanno visto un lago nel deserto quando andranno a toccarlo troveranno solo sabbia nel deserto non ci sono laghi e quindi come accoltero i giudici come i magistrati come accoltero questa poesia diciamo che la dottoressa Cassano in tutte le volte che l'ho incontrata ha sempre avuto un aspetto imperturbabile ecco quindi non mi sembrava una persona che ma non ti fecero anche un sorrisino qualcosa? Il presidente del tribunale del tribunale del tribunale della libertà con gli occhi c'è fu un sorriso un sorriso un zonghigno non si interpretava bene ma è finito poi dopo abbiamo fatto l'altra istanza a 23 maggio respinta anche quella quella fu senza interrogatorio il GIP decise senza più risentirmi perché tanto loro mi ritenevano una persona pericolosa perché loro dicevano questo dicevano questa cosa qua beh la voglio reggere perché bene che la gente lo sa dai dai di corsa che siamo in chiusura dicevano con le condizioni di pericolosità poste a base del provvedimento del giudice delle indagini preliminari sono tuttora ancora valide alla luce dell'immutata posizione del Giannoni che certamente potrebbe nel caso si reaventura la misura cautelare dedicarsi ad altre attività criminose dello stesso tipo e comunque interferire lecitamente nello sviluppo dell'attività del settore in corsa era un elemento pericolosissimo era un elemento pericolosissimo ma lo sei anche adesso per il rispetto dei tempi sei molto pericoloso e non ce lo faccio grazie dobbiamo salutare tutti grazie a tutti grazie a voi abbraccio tutti quelli che mi hanno ascoltato tutti i miei amici di Venturina che in sera li ho tutti diciamo invitati a seguire questa nostra bene grazie di nuovo ragazzi vi aspetto vi aspetto a Venturina certo torneremo con piacere arriviamo di corsa benissimo grazie a chi ci ha seguito grazie a tutti alla prossima ragazzi ciao